Musica E salve a tutti ragazzi e ragazzi Benvenuti a questo nuovo video Finalmente dopo un sacco di tempo Siamo ritornati su Warframe Io ho sentito che ci saranno nuovi aggiornamenti Una nuova quest che io raga Io la voglio fare con voi E ovviamente stiamo parlando Della quest il sacrificio Se vi ricordate l'ultima volta Che ho fatto la quest di Warframe Abbiamo scoperto che Ballas che è tipo una specie di dio O di kin Diciamo che si è portata con sé Lotus e nel momento Di scoprire la verità Con questa ovviamente Iniziamo Oddio Qualcuno mi sta chiamando Allora Senti Di salminare Dove c'è qua Ecco Appunto È Lotus Proviamo a toccare Viva che succede Oddio Ma questo è sempre Scalibro Aspetta No aspetta Raga Questo è Scalibro Umbra Wow Bessia Quella è Ballas Oh mamma Oh Mio Dio Questo è Scalibro Umbra Raga È molto ricercato Mamma mia Signori Quanto Quanto è fiero Ma che Come non puoi sfidare il tuo creatore Oh Caspiterina Raga Caspiterina Non ci voglio credere Fanciata Prodise Poi Prima Tutto Quanto è Una volta da Umbra と Está Prima ine Ave Ho Oddio D unserer Mi Se Poi E Is La E I S Mod people Quanto Ce Se Oradin stelle presenti in generale risultati adegu watch this marco con un figlio orkish svisizio di solito raga non ci voglio credere no vero raga e incredibile Escalibur Che quando ho capito Si chiama Umbra Escalibur Umbra Molto molto bello Allora Vabbè se niente Andiamo qua Allora dobbiamo andare sulla terra va bene Raga è cambiato davvero tanto Non per poco che non ci gioco Quasi un mese o due non me lo ricordo di preciso Però raga è spettacolare È spettacolare Mamma mia raga Non ci gioco a chissà quanto Eppure mi ricorda tutto a memoria Vabbè raga I giochi belli Ok Raga so Ghoul Oh cazzo Oh E levatevi Raga mi ricordo tutto a memoria Non ci gioco da quasi tre e mezzo Guardate un po' Ok Dobbiamo andare da questa parte Hop Raga la grafica Forse Mi sbaglio Ma la grafica qua è diventata ancora molto più realistica Di come me la ricordo Guardate questo fatto proprio Non so se è così O è più realistico O no Non me lo dico Proprio È tutta un'altra cosa Mi sembra Anche se I comandi mi ricordo a memoria Ok Ok No raga i movimenti sono più realistici Eh L'ho sentito male Ok Ok Difendiamola Mamma mia raga La Lex Come la ricordavo io Rottissima La 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 Qua 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 Treno un colpo Ok Appena ripicchiano Jet Claudono Meglio ancora Raga mi ricordo che Questi tizi qua Sono fastidiosi Sono fastidiosi Eh vaffangulo Ok La porta si è aperta Oddio raga qui è dove ha combattuto Excalibur Umbra A quando ho capito il nome ovviamente Indaga Qui c'è la sua katana Allora non so Ecco qua Forse si No no spera Questo dobbiamo usare Mamma mia No qua niente E dove No Aspetta aspetta Ho visto qualcosa Raga Ora sto facendo un po' No Porca puttana Ci ha scansionato Raga ma Ma dov'è Ah in queste Ah aspetta Raga C'è il corno Il corno di Excalibur Ok Ok Allora abbiamo fatto una traccia Di Warframe Aspetta 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 Il mantello Sarà il mantello A Il mantello Il Il S Il Il E Ecco il Il Ecco il Ecco Adesso Che Dovuto Ok Abbiamo scansionato Ora vediamo un po' Che cos'è? Ok Forse è meglio scappare Ok Buongiorno Buonasera Stavo giusto giusto per andarmene Non sono molto ospitato Ok Ce l'abbiamo fatta Dritti sulla luna This one is different Cosa? Oh, aspettate Oh, e basta Oh, accuccia Vi vediamo la sicurezza E questa sarebbe Ah, posso capire No, aspettate Aspettate, controlla la Cosa? Il codice è quello? Ok, grazie Ok 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 Abbiamo capito il codice Grandi, come sempre Ok, andiamo Cosa? Ma che Oh, ma che cacchia Muori, oh, cavolo Raga, i sentinelli sono molto difficili perché si adattano ai tuoi attacchi Ok La sentinella è morta ormai, me ne devo fare una ragione, pensate un po' Aspetta, aspetta, c'è una cassa Oh, non si apre Ma, su serio, non si apre? Come lo volete, prendemi in giro Per fare che questa Non si apre nemmeno quella Ok Va bene Ma mi prendete davvero in giro Allora Come prima Raga, come prima Perlustiamo la zona Allora Ok Uno trovato C'è un altro di fro Qua accanto, raga Ok Acqua Ecco un altro del mio tratto Buono, buono Buono Ultimi due, raga Ultimi due Ipile Ti prego Ti prego Ti prego Fate che non ci sia Appunto Ma perché parlo troppo presto? E basta però Ok Una trovata Sentite Lasciatemi stare Lasciatemi stare Fortesemente Grazie Oh ma che Ma vi prendete Per il culo? Facciamo le cose per ordine Ah ecco Ecco E' ho finalmente Abbiamo fatto Cosa c'è qua dentro? Una porta Che bello Ragazzi Sono spettacolari Sì 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 Qua sono Modo Scanzione Lavoratorio Va bene Vabbè Avevo trovato un giochetto da quattro soldi Ok Continua Daga Abbiamo tutto un codice Molto, molto bizzarro Signore, tranquilli che me ne sto andando Tranquilli, non c'è bisogno di ammazzarmi Ecco fatto Ok Ma io non so cosa dobbiamo fare Install il virtual Ok L'abbiamo esso Ma perché Ma che Raga, la nave La nave è tutta Sotto sopra Perché tutto sto blackout Ok ragazzi Ora noi dovevamo costruire umbia Oh guarda Non ho bisogno di così tanto Ah ok Così poco Bah Di solito ci vogliono tre giorni per fare un world frame Ok Ora Prima cerchiamo La Quella smash Dov'è? Vediamo dov'è Ah eccolo Escalibur umbra Ecco Come mai sta tremendo tutto? Cosa? Oddio 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 Come mai qua c'è Ballas? Ma, ma... Ma chi sono io? Ma che c'è? Raga dove è essere Umbra? No, io non so. Oh, questo. Ho provato a farci il porto trasferimento, in honor della nostra storia insieme. E guarda, guarda chi non ha lasciato i tuoi cittadini da te, da te lo ucciso. Guarda lui, un uomo. Guarda, guarda tuo figlio. Guarda tuo figlio. Io non ti conosco, quindi scusa. Aspetta. Raga, posso capito? Quella è Tenshin. Sta stavando nel passato. Oh, mamma. Guarda, guarda. Guarda... un'esercizio non è un memoria un'esercizio questo magari non è ma non è ok ok alla istituzionale se questo blasfemia no non ho bestemmiato tranquillo non bestemmi anche se non ho bestemmiato tranquillo stessa cosa aspetta raga questo ho visto che ha polverizzato umbra se non mi ricordo male d'accordo ragazzi il video si può anche concludere qua spero che vi sia piaciuto iscriviti al canale se l'avete già fatto commentate mettete like e noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi